Sapevo che saresti arrivata Anzi, dov'è Aladu? Dov'è Aladu? E' morto. Sapevo che prima o poi sarebbe successo. Era scritto nel destino ormai. Da quando ha mangiato gli attributi di Ano, non è stato più lo stesso. Se n'è voluto andare così da solo. Ha trovato una grande caverna, ed è lì che è voluto andare a morire. Portami alla caverna subito. Mi hai sentito, Anzu? Ora.